in questo video vi racconterò che cosa è successo il 28 e il 29 agosto del 2014 avevo in corso dei lavori in casa mia dovevo bucare una parete per l'inserimento di una stufa a pellet e bisognava ricavare, vista l'inesistenza di un efficace camino interno alla casa un tiraggio esterno che passasse fuori dal muro della casa e arrivasse fino al soffitto per cui in questo mese in cui si vede il 9 di agosto il martirio di San Romano il 10 di agosto il martirio di San Lorenzo ma in particolare nei giorni 28 e 29 agosto in cui si celebrano Sant'Agostino San Ermete sapete che io mi riferisco molto a Er e Ermete rimanda a un Er che è me ed è te ma soprattutto il giorno 29 di agosto è quello che celebra il martirio di San Giovanni Battista nella parrocchia di fronte a casa mia San Giovanni Battista è il martire della chiesa di questa zona di Casino Ferrara chiesa di San Giovanni Battista ebbene ecco che cosa è successo in questo particolarissimo giorno era venuto ad aiutarmi fin da cattolica il mio amico Daniele e lo vedete qui all'opera con un trapano e una carotatrice in cui sta effettuando un buco che attraversi tutto il muro spesso della casa e consenta allo scarico di andare sulla superficie esterna e in essa sarà ricavato bene bene il tubo di collegamento fino al soffitto attraverso un primo tratto obliquo a circa 90 gradi di inclinazione che nella idea dovrebbe essere parzialmente annegato nel muro per uscire fuori nella parete soltanto con un tratto verticale a partire dalla soglia della finestra fino su in alto al soffitto è una paziente opera che richiede il necessario sforzo per ottenerla siamo a metà strada si fa fatica a entrare in questa parete e siamo stati anche abbastanza fortunati hai bisogno di una punta un po' più decisa invece di quanto io attendevo ossia una parete fatta di quei ciotoloni di sasso di cui è piena questa zona perché la zona di Saronno una volta evidentemente era sede del passaggio di un fiume perché quando si scava sotto il terreno esso è pieno di ciotoli di varia grandezza tutti arrotondati proprio dal passaggio dell'acqua del gretto del fiume che a forza di fare rotolare questi sassi li ha smussati ebbene basta scavare un po' sotto tutto il terreno di Saronno e si trovano questi sassi del resto si sa tutta la pianura padana era più o meno nei millenni passati sede tutta quanta dello scorrere di un grande fiume il Po che è da immaginarsi con il passare dei millenni passando di qui e di lì praticamente su tutta la pianura padana il Po con i suoi affluenti ha letteralmente riempito la pianura di tutti i detriti portati dai monti essi venivano scavati poi la carototrice e i sassi venivano portati intanto proviamo con quella a valle il trapano qui per produrre il buco si scalda e deve essere opportunamente raffreddato voi vedete un primo strato di un pannello di truciolato bianco con il quale io ho rivestito negli anni passati tutto questo locale in cui io abito ne ho fatto tutto un arredamento comprensivo di mobili scaffali e soprattutto specchi che diano un po' l'idea di trovarci non in quei 16 metri quadrati e mezzo dell'appartamento dell'appartamento del monolocale ma in uno spazio triplo perché gli specchi su una parete e gli specchi sull'altra ecco qui provo io a sfondare la parete un po' con colpe di mazzetta un po' più decisi ma mio amico non è tanto del parere Daniele Berti desidera fare un lavoro pulito io invece so che dall'altra parte del muro bisognerà creare uno scasso per incassare il tubo che essendo a piano terreno praticamente uscirà sulla strada di fianco all'appartamento che è nel cortile di un altro condominio e per evitare di essere schiacciato da macchine che eventualmente finiscono col muro sarà incassato almeno per la parte fino a un metro e mezzo restando sempre all'interno della soglia della finestra io andrò a invadere la proprietà altrui con questa mia opera ma restando al filo che attualmente ha la soglia del balcone della finestra qui io non penso di arrecare proprio nessun disturbo fra l'altro anche se è una parete che confina in una famiglia in un condominio di altri credo di avere tutto il diritto di far passare lungo la parete il tubo di scarico condotto verticale di 8 cm di spessore da un metro e poco più di altezza fino su nel tetto situato dopo il primo piano percorrendo quindi una distanza di circa 6 metri sigillato alla parete se non che voi avete visto proprio nei giorni passati le proteste di una signora che faceva parte del condominio e così è successo che dopo lo scasso dopo di essere usciti e di avere creato l'opportuno incasso del tubo obliquo che da quel foro in basso doveva portare fino su all'altezza della soglia il condotto poi da cui doveva partire il pezzo verticale una parte da incassare in una parete anche storta per cui raddrizzandola senza uscire oltre la soglia il lavoro era fattivo era fattibile bene ecco quando a un certo punto arriva la vicina piena di proteste dicendo che quel lavoro non si poteva fare e ci ritroviamo al centro di una accesa discussione in cui è talmente evidente proprio la cattiveria di questa donna contro me che cercavo semplicemente di creare la possibilità di scaldare a dovere questo ambiente per l'inverno talmente evidente che io a suo giudizio dovevo smettere tutto quello che stavo facendo perché non era nel mio diritto ne è venuta fuori una discussione accesa e ha corsa ancora un'altra vicina e un giovane quando l'accanimento contro di me è stato oltre la mia capacità di resistere messo di fronte a un atteggiamento veramente così cattivo contro di me ho afferrato il tubo che già era stato cementato dentro il muro e l'ho strappato dicendo va bene sia fatto come vuole lei signora ma lei è di una cattiveria che veramente supera ogni limite io faccio come vuole lei ma lei è cattiva se lo ricordi questa è una cosa veramente oscena prendersela contro un povero individuo che sta cercando soltanto di creare le condizioni di una possibilità e a quel punto interviene quel giovane un giovanotto io parlo di giovani oramai perché dalla mia età sono giovani anche coloro che hanno sui 30 anni cosa volete era un signore che è stato lì pazientemente e quando le cose sono arrivate a questo punto è intervenuto lui dicendo ma c'è un altro modo che lei può usare per fare questo lì una volta c'era un cammino poi il cammino è stato tolto perché secondo un evento di una grande nevicata la neve lo aveva travolto e il cammino era finito su un automobile che era parcheggiata qui lì sotto e a quel punto è stato eliminato ma lei dovrebbe avere ancora il condotto nel muro io avevo avuto notizie dai due che sono collocati uno a destra e uno a sinistra del mio appartamento che si chiamano reina tutti e due e che non sono solo nel piano di sotto a destra e a sinistra ma anche sopra che questa parete che era poi quella che divideva i loro due ambienti a piano di sopra era crollata e la canna fumaria che era dentro la parete era stata distrutta la pazienza di quel giovane risolve la situazione in un modo veramente notevole dice guardi ci penso io vi sistemo io le cose avete modo di andare sul soffitto è intervenuto come un santo veramente nel mezzo di una protesta virtuale contro un atteggiamento veramente satanico e si è offerto di provvedere di farlo lui di metterci il suo lavoro io dovevo soltanto avere la pazienza di portarlo su attraverso i passaggi che consentivano di andare sul tetto per vedere com'era la situazione in relazione a questa canna fumaria e così quella discussione veramente mostruosa che c'era stata prima e che veramente mi aveva portato a un livello raro in me di esasperazione di protesta contro satana ha avuto termine e siamo andati su nel tetto lì è stata trovata la canna e non era vero quello che mi avevano detto i miei due vicini i signori Reina che la canna fumaria era crollata era crollato soltanto il comignolo era possibile calare i tubi che io volevo mettere nell'esterno lungo tutta la parete all'interno della canna fumaria e farli uscire nell'ambiente direttamente e da lì collegare poi all'interno del locale la stufa ebbene questo signore veramente di una bontà che io non vi dico ha preso in mano la situazione e si è messo al lavoro facendo lui il direttore dei lavori si è procurato a casa sua un trapano che facesse un foro passante nei tubi da collegare in modo che bloccati non si sfilassero e agganciandole uno all'altro dalla cima del tetto è stato calato tutto il tubo necessario a poter essere poi collegato all'ambiente attraverso il foro che c'era ancora e così dopo vari tentativi abbiamo visto il tubo venire giù dall'alto e lo abbiamo bloccato con un tubo passante dopodiché questo signore ha fatto tutto quello che doveva fare cioè realmente tutto il lavoro sul tetto c'era già anche la base del comignolo mancava solo il comignolo e il tubo che usciva di 8 millimetri bastava farlo un po' più corto del comignolo dopodiché comprare un comignolo e collocarlo al posto del comignolo che c'era prima ebbene lo ha fatto lui tutto il lavoro coadiuvato da Daniele e praticamente esautorando completamente la mia persona io mi sono visto prendermi la mano da questo giovane giovane di spirito di animo di bontà che per quello che ha potuto fare lo ha fatto e dopo determinando l'ordinativo dei pezzi che mancavano ha dato appuntamento al giorno dopo il 29 in cui il lavoro sarebbe stato terminato bisognava comprare dei tubi così così secondo quello che mancava perché passando ora all'interno del locale i tubi di prima non bastavano più e così il giorno dopo è venuto ha collocato il comignolo che nel frattempo io e Daniele avevamo comperato ha messo in opera e sigillato tutti i tubi che mancavano e ha provveduto a completare l'opera che io qui ora vi mostro semplicemente girando questa camera qui in modo che voi la possiate vedere scusatemi se nel frattempo qui magari qualcosa va a male qui vedete la finestra e vedete il tubo con anche il la stufa che è stata collocata vedete eccola qui c'è il tubo che ora passa va su in cima lo vedete è arrivato lì in alto fa un percorso orizzontale eccolo lì e va a infilarsi dentro il muro è un'opera fatta a regola d'arte voi dite ma perché ci stai raccontando tutto questo per un motivo molto ma molto significativo voi lo sapete bene io mi chiamo romano quello che ancora non vi ho detto è che questo giovane che si è sacrificato gratuitamente gratuitamente messo egli pure a contatto con questa evidente cattiveria che esisteva nei miei confronti si è fatto in quattro e il suo nome è lorenzo ecco si è ripetuto pari pari quello che accadde e che santificò il romano che era un soldato romano quando ebbe l'incarico di cuocere a fuoco lento san lorenzo la storia di san lorenzo e san romano ve la voglio raccontare vi era un soldato romano di cui si ignorava il nome si è ignorato fino alla fine che ebbe l'incarico di arrostire a fuoco lento un martire cristiano san lorenzo san lorenzo come vedete diacono e martire festeggiato il giorno 10 di agosto doveva essere proprio cotto a fuoco lento su una brace che quel soldato romano preparò mise sulla brace una rete e quando gli ordinarono di collocare sopra quella rete un martire si ribellò vedendo tanta cattiveria nell'animo umano si ribellò e disse ai suoi superiori che mai e poi mai egli l'avrebbe fatto insomma quell'atteggiamento che io ebbi con i vicini quando afferrato il tubo nel muro lo sradicai e dissi che va bene io non lo avrei fatto questo soldato romano fu minacciato dai suoi superiori se non fai e non rispetti gli ordini intanto ci deve essere un motivo perché perché disse san romano voi state facendo questo gesto orribile perché è un cristiano tanta cattiveria c'era proprio contro costui perché era un cristiano e allora sono un cristiano anch'io e fu inflessibile egli non aveva mai saputo nulla del pensiero di gesù e voi sapete che gesù aveva detto che era meglio perdere un braccio un occhio in questa vita reale piuttosto che perdere l'anima era meglio andare dall'albilà senza un occhio senza un braccio se questi erano oggetto di scandalo ebbene san romano messo di fronte proprio alla minaccia di una decapitazione preferì che gli venisse tagliata la testa senza che egli pure perdesse la testa come evidentemente la stavano perdendo tutti quanti ecco conosceva senza che nessuno glielo avesse mai insegnato qual era il fondamento della predicazione di Gesù Cristo se vuoi salvare la tua vita rinuncia al tuo bene egoistico in questa vita e l'avrai salvata in eterno questo romano fu decapitato il giorno prima del martirio di san lorenzo e infatti è celebrato il 9 di agosto il san romano martire il giorno dopo celebrato il 10 avvenne il martirio di lorenzo questo consentì attraverso il martirio di san lorenzo a creare questo grande santo romano che fu chiamato santo romano non perché si chiamasse romano ma perché era nel segno di un romano soldato romano pieno di santità pieno di una innata capacità di vedere e smascherare satana tanto che quando anche oggi ci sono quei rari tentativi della chiesa della chiesa cattolica di smascherare e debellare satana in una satanato e si fanno ancora quelle pratiche per cacciare satana da una satanato questo san romano è uno dei santi che è invocato proprio perché ha come dono quello di smascherare satana ebbene in questa storia c'è stato un martire in questa storia che riguarda proprio quello che è successo a me è stato questo giovane Lorenzo che si è sacrificato a favore di me romano e in un certo senso qui proprio nei due giorni in cui in questa zona si è festeggiato si è celebrato il martirio di san giovanni battista che è il santo cui è intestata questa zona di saronno che è cassina ferrara proprio in occasione di questo martirio che c'è stato il 29 ma anche di quello che c'era il giorno precedente il 28 che vedete celebra santa ermete e tra ermete e er di romano un romano che è me che è te perché in questo caso il cittadino romano diventa quel cittadino del mondo che è proprio nel segno di quello che fu descritto ed è leggibile in Genesi 25 della Bibbia quando il risponso dato dal signore alla sposa di quello che doveva essere ucciso dal padre che era Isacco e si chiamava Rebecca e che ebbe in dono di avere nel grembo due gemelli per la lotta che c'era nel suo grembo si rivolse al signore e il risponso fu nel tuo grembo ci sono due grandi popoli il maggiore si imporrà sul minore ma infine lo servirà il popolo romano era il popolo maggiore il popolo minore era il popolo ebraico ma alla fine sarebbe stato proprio il cittadino romano che celebrava nel terzo secolo dopo cristo il giorno 25 di dicembre la festa per il sole invitto il dio del sole invitto il ra di roma il ra romano è proprio il ra dio del sole romano celebrato dal popolo romano che crea e dona e dona alla chiesa cattolica il giorno natale di cristo perché al posto della celebrazione del ra romano si sostituisce la celebrazione per il natale di gesù cristo ecco vedete quanta importanza è data a questo romano che non è un santo che si chiamava romano era semplicemente quel cittadino romano che riceveva direttamente dall'alto questa sua investitura che lo avrebbe portato poi a cedere a cristo tutto quanto il suo lavoro di divina intercessione dunque grazie all'amico ecco qual è la situazione che abbiamo creato il lavoro che io ho completato ha riguardato poi ma questo l'ho fatto io questa sistemazione in cui qui vedete in basso una presa d'aria e poi qui sulla parete c'è bloccata tutta quanta in giro siliconata tutta una lastra di di plastica con intercapedine e io prendo aria solo qui in basso in modo che potrò tenere aperta la finestra quando fa caldo o chiudendo con doppi vetri qui ho creato doppi vetri in modo che quando io poi chiudo le finestre ho lo strato esterno che mi fa da coibentazione i doppi vetri che ho qui nella finestra e io chiudendo questo qui sono in una condizione di perfetto isolamento termo acustico e non si potrà più lamentare nessuno che io parlo troppo forte e faccio i miei video disturbando il sonno delle varie persone che come avete visto avevano creato una condizione veramente che era il segno del male ma di fronte alla protesta e all'evidenza di tanta cattiveria ecco c'è stato il San Lorenzo che con il suo martirio è intervenuto e ha risolto con il bene vincendo il male una situazione che veramente era uscita di mano a tutti quanti sia veramente lode e grazie a questo nuovo San Lorenzo che è il caso di vederlo vederli questi santi nella vita reale anche se non si rendono conto di essere figure eccezionali che dovrebbero veramente incidere sulla realtà tanto che quella enorme quantità di male che si vede sia nobilitata sia risanata grazie proprio a chi ci mette del suo paga di tasca propria e consente alla vita di procedere nel migliore dei modi grazie a lui e grazie anche la vostra pazienza se avete avuto la pazienza di ascoltare tutto questo che è accaduto proprio nei due giorni in cui qui si celebrava il martirio di San Giovanni Battista senza dimenticarmi per la cosa eccezionale che è accaduta di quell'altra cosa con cui ho iniziato c'è stato un giovane che è partito da cattolica ha percorso cinque ore di viaggio per venire fino a Saronno si è offerto gratuitamente di aiutarmi e aveva già creato i presupposti di una bontà che nata come sottofondo e come supporto poi ha avuto in questa specie di dramma della cattiveria e della bontà il suo momento veramente emblematico di